Nico. Lupi, chiese Reina. Stavano mangiando la cena che avevano preso al bar della piazza. Nonostante Ade gli avesse messo fretta, Nico non aveva trovato grandi novità quando era tornato nel loro piccolo accampamento. Reina si era appena svegliata. La tena partenos se ne stava ancora distesa in cima al tempio. Il coach Edge intratteneva i passanti ballando il tip-tap, facendo qualche numero di arti marziali e attaccando ogni tanto un motivetto col suo megafono, anche se nessuno sembrava capire le parole delle canzoni. Nico avrebbe tanto voluto che il coach non si fosse portato dietro quell'arnese. Non solo faceva un chiasso terribile, ma per qualche ragione a lui sconosciuta. Di tanto in tanto parlava con la voce di Darth Vader e sparava citazioni tratte da guerre stellari, oppure strillava «La mucca fa muu!». mentre se ne stavano lì a mangiare comodamente sul prato, Reina sembrava vigile e riposata. Lei e il coach ascoltarono quello che Nico aveva da raccontare, prima i suoi sogni e poi l'incontro con Ade nella cappella delle ossa. Tenne per sé solo i dettagli più personali del suo colloquio con il padre, anche se sospettava che Reina sapesse molto bene cosa significava lottare con i propri sentimenti. Quando parlò di Orione e dei lupi che erano sulle loro tracce, Reina si accigliò. «In genere i lupi sono amichevoli con i romani», osservò. «Non ho mai sentito nessuna storia di Orione che caccia con un branco». Nico finì il suo panino al prosciutto, adocchiò il vassoio dei dolci e fu sorpreso di scoprirsi ancora affamato. «Forse era una metafora e si tratta di lupi per modo di dire, non in senso letterale. Comunque, dobbiamo andarcene non appena farà buio a sufficienza per avere l'ombra attraverso cui viaggiare». Il coach si ficcò un numero della rivista Pistole e Fucili nella borsa. «C'è un problemino però. La tena partenos è ancora lassù. Sarà uno spasso caricarvi in spalla e portare voi e tutto l'armamentario in cima a quel tempio». Nico assaggiò un dolcetto. La donna del bar li aveva chiamati Farturash. Avevano l'aspetto di ciambelle fatte a spirale ed erano squisiti, croccanti, dolci e burrosi al punto giusto. Ma quando Nico aveva sentito quella parola, aveva subito pensato a come ci avrebbe scherzato su Percy. Del resto in inglese Fart voleva dire scoreggia. La battuta sorgeva spontanea. Più Nico cresceva, più si scopriva considerare Percy un po' infantile anche se aveva tre anni più di lui. Trovava il suo senso dell'umorismo al tempo stesso tenero e irritante. Decise di concentrarsi sull'aspetto irritante. Poi c'erano le volte in cui Percy era serissimo. Come quando lo aveva guardato sull'orlo di quel baratro a Roma? «Dall'altro lato, Nico! Portali là! Promettimelo!» E Nico aveva promesso. Non contava molto quanto ce l'avesse con lui. Avrebbe fatto qualunque cosa per Percy Jackson. E si odiava per questo. Allora la voce di Reina lo strappò ai suoi pensieri. «Il campo mezzosangue aspetterà il primo agosto o attaccherà prima?» «Dobbiamo sperare che aspetteranno», rispose Nico. «Non possiamo...» «Io non posso trasportare la statua più in fretta di così!» «E anche a questo ritmo, secondo mio padre, sto rischiando di morire», pensò, ma lo tenne per sé. Quanto avrebbe voluto che Hazel fosse lì con lui. Insieme avevano viaggiato nell'ombra trascinandosi dietro l'intero equipaggio del Largo 2 per uscire dalla casa di Ade. Quando condividevano il loro potere, gli sembrava che tutto fosse possibile. Sarebbero arrivati al campo mezzosangue, nella metà del tempo. E poi, le parole di Ade sulla morte di un membro dell'equipaggio gli avevano gelato il sangue. Non poteva perdere Hazel. Non un'altra sorella, di nuovo!» Edge sollevò lo sguardo dalle monete che stava contando nel suo berretto. «Sai sicuro che Clarisse abbia detto che Mellie sta bene?» «Sì, Coach. Clarisse si sta prendendo cura di lei.» «È un sollievo. Non mi piace quello che ha detto Grover, su Gea che bisbiglia all'orecchio delle ninfe e delle driadi. Se gli spiriti della natura diventano malvagi, non sarà piacevole.» Nico non aveva mai sentito di una cosa del genere. Ma del resto era dagli albori dell'umanità che Gea non si svegliava. Reina diede un morso al suo dolce, l'armatura che scintillava al sole del pomeriggio. «Sto pensando ai lupi. Secondo te è possibile che abbiamo frainteso il messaggio? La Dea Lupe è stata molto quieta ultimamente. Forse ci sta offrendo un aiuto. I lupi potrebbero essere i suoi, andati a difenderci da Orione e dal suo branco.» La speranza nella sua voce era sottile come un velo. Nico decise di non squarciarlo. «Forse», rispose, «ma lupa non sarà occupata con la guerra fra i due campi. Mi aspetterei di più che mandassi i lupi ad aiutare la tua legione.» Reina scosse la testa. «I lupi non combattono in prima linea. E non credo che lupa aiuterebbe Ottaviano. I lupi potrebbero pattugliare il campo Giove per difenderlo durante l'assenza della legione. Ma non lo so.» Incrociò le caviglie e le punte metalliche dei suoi stivali luccicarono. Nico si appuntò mentalmente di evitare i calci dei legionari romani. «C'è dell'altro», continuò Reina. «Non sono riuscita a contattare mia sorella Illa. E il fatto che sia i lupi sia le Amazoni siano irreperibili non mi fa stare tranquilla. Se è successo qualcosa sulla costa occidentale, temo che l'unica speranza per i due campi siamo noi. Dobbiamo assolutamente riportare la statua il più presto possibile. Questo significa che il peso maggiore è sulle tue spalle, figlio di Ade.» Nico cercò di inghiottire l'amarezza. Non ce l'aveva con Reina, anzi, gli stava simpatica più o meno. Ma capitava così spesso che la gente gli chiedesse l'impossibile. E subito dopo, non appena ce l'aveva fatta, di solito tutti si dimenticavano di lui. Ricordava quanto erano stati gentili i ragazzi del campo mezzosangue dopo la guerra contro Crono. «Sei stato grande, Nico! Grazie di averci salvato con l'esercito degli inferi.» Tutti sorridevano. Tutti lo invitavano a sedersi al loro tavolo. Nel giro di una settimana, quello spirito era sparito, o quasi. I ragazzi trassalivano se lui compariva alle loro spalle. La sera al falò, quando sbucava dall'ombra e senza volerlo spaventava qualcuno, leggeva un chiaro messaggio nei loro sguardi imbarazzati. «Sei ancora qui? Perché sei ancora qui?» «Certo, il fatto che subito dopo la guerra dei titani Annabeth e Persi si fossero messi insieme. Non aveva contribuito a rallegrarlo.» Nico mise giù la sua fartura. A un tratto non era più così buona. Ripensò alla chiacchierata con Annabeth nell'epiro, poco prima di partire con l'Atena Parthenos. Lei lo aveva preso da parte e aveva detto «Ehi, devo parlarti!» «Panico!» «Lo sa», aveva pensato. «Volevo ringraziarti», aveva continuato Annabeth. «Bob, il titano, ci ha aiutati nel tartaro solo perché tu sei stato gentile con lui. Sei stato tu a dirgli che valeva la pena salvarci. È l'unico motivo per cui noi siamo ancora vivi.» Usava quel «noi» così facilmente, come se lei e Persi fossero intercambiabili, inseparabili. Nico una volta aveva letto una storia di Platone, il quale sosteneva che nell'antichità tutti gli esseri umani erano una combinazione di maschio e femmina. Ogni individuo aveva due teste, quattro braccia, quattro gambe. Erano così potenti che gli dèi ebbero paura di loro. Perciò Zeus le aveva divisi in due, uomo e donna. Da allora gli esseri umani si sentivano incompleti e trascorrevano la vita alla ricerca dell'altra metà. «E io allora?» si chiedeva Nico. Non era la sua storia preferita. Avrebbe voluto odiare Annabeth, ma non ci riusciva. Si era sentita in dovere di ringraziarlo, era autentica, sincera. Non faceva mai finta di non vederlo e non lo evitava, come la maggior parte della gente. Ma perché non poteva essere una brutta persona? Sarebbe stato più facile. Il dio del vento Favonio lo aveva avvertito in Croazia. «Se ti lasci guidare dalla rabbia, beh, il tuo destino sarà perfino più triste del mio!» Ma come poteva il suo destino essere altro che triste? Anche se fosse sopravvissuto quell'impresa, avrebbe dovuto abbandonare entrambi i campi per sempre. Solo così avrebbe trovato pace. Avrebbe tanto voluto che ci fosse un'altra possibilità, una scelta che non fosse dolorosa come le acque del flegetonte. Ma non ne vedeva alcuna. Reina lo stava studiando, probabilmente per cercare di leggere i suoi pensieri. Vide che lanciava un rapido sguardo alle sue mani, e Nico si rese conto che si stava rigirando fra le dita all'anello con il teschio d'argento, l'ultimo regalo di Bianca. «Nico, come possiamo aiutarti?» chiese Reina. Un'altra domanda a cui non era abituato. «Non lo so», ammise lui. «Mi avete già lasciato riposare il più a lungo possibile, e questo è importante. Forse puoi prestarmi di nuovo la tua forza. Il prossimo salto sarà il più lungo. Avrò bisogno di tutta l'energia possibile per attraversare l'Atlantico. Ce la farai, promise Reina. E quando saremo negli Stati Uniti dovremmo incontrare meno mostri. Forse potrei ottenere perfino un aiuto dai legionari a riposo lungo la costa orientale. Sono obbligati ad assistere qualunque semidio romano si rivolga a loro.» Edge sbuffò. «Sempre che Ottaviano non li abbia già portati dalla sua. Nel qual caso ti ritroveresti arrestata per tradimento.» «Coach», protestò Reina, «non mi sta aiutando.» «Ehi, si fa per dire! Personalmente vorrei tanto che ci potessimo fermare a Evora un po' di più. Si mangia bene, si fanno soldi. E per il momento non c'è nessuna traccia di questi lupi metaforici.» I cani di Reina scattarono sulle zampe. In lontananza degli ululati squarciarono l'aria. Prima che Nico potesse alzarsi, i lupi comparvero da ogni direzione. Grandi bestie scure che balzavano giù dai tetti circondando il loro accampamento. Il più grosso, il capobranco, si fece avanti. Poi si sollevò sulle zampe posteriori e cominciò a cambiare. Le zampe anteriori divennero braccia. Il muso si ridusse a un naso appuntito. La pelliccia grigia si tramutò in un mantello di pelli animali intrecciate. Divenne un uomo alto, asciutto e muscoloso, con il volto consumato e gli occhi rossi e lucenti. Una corona di falangi scheletriche. Gli cingeva i sudici capelli neri. «Ah, piccolo satiro!» L'uomo sorrise, scoprendo zanne appuntite. «Il tuo desiderio sarà esaudito! Resterai a Evora per sempre! Perché, purtroppo per voi, i miei lupi metaforici sono lupi letterali!» risade 22 21 23 25